CYBERCRIMINI Il burattinaio. Devo scoprire che cosa c'è dentro quel corpo artificiale. E sono disposta a pagare un prezzo altissimo. A volte le anime si introducono nelle bambole di celluloide. Tu forse non lo sai perché sei una nuova recluta qui da noi. Io sono una forma di vita che si è aggregata ed è nata nell'oceano delle informazioni. MOTOCCO! 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 MOTOCCO!